Siracusa, interventi urbanistici quartiere Borgata a Santa Lucia, richieste situazione e consulta per l'urbanistica. Gli interventi urbanistici che stanno interessando la Borgata lasciano quantomeno interdetti. Piazza Euripida ha perduto definitivamente la sua forma originaria, oltre alla macchia di Annoso Verde al Curipini che ne occupava la parte centrale. Delle vie che costeggiavano l'unica iola centrale, ne rimane a stento una, l'altra è diventata parte della piazza. Avranno progettiste UTC tenuto conto del defuso delle acque meteoriche in quella zona, anche in considerazione della consistenza e della durata delle stesse per le mutate condizioni climatiche? Quando piove a secchiate, Corso Timoleonte si trasforma in un fragoroso torrente che supera pure il livello dei marciapiedi. A piedi è impossibile percorrerlo, a meno di calzare gli stivali. Le auto stesse procedono con grande cautele e con non pochi rischi. In piazza Euripida questo inverno sono ricomparsi i sacchetti di sabbia, gli ingressi degli esercizi commerciali per evitare allagamenti. Ora quel tratto di strada rialzato è diventato parte della piazza con una sola griglia di smaltimento. Poi rotatori su rotatori, marciapiedi come piazze e strozzature a volontà. Sono state tenute in conto le caratteristiche della mobilità complessiva in quella zona, parcheggio degli autobus per gli studenti del liceo compreso, e le colonne di auto che si formano, essendo tutte incanalate su via Ierone II, o dovremmo tutti andare a piedi e prendere il sole sul marciapiede piazza davanti al Palazzo degli Studi. Si osserva che l'intervento su piazza Euripide ha una strana somiglianza con quello eseguito diversi anni fa sulla storica piazza Verdi di La Spezia. Anche lì fu tagliato un gran filare di pini, la piazza divenne una spianata e ad ornamento furono installati alcuni portali colorati. Da un capo all'altro dell'Italia, piazze come spianate e portali come ornamento. Per ultimi, qualche giorno fa è stato demolito l'antico sottopasso pedonale tra via Gato e via Arsenale. Risale al 1871, anno di inaugurazione della tratta Lentine-Seracusa, che per disposizione della superintendenza fu risparmiato quando fu smantellata la ferrovia a seguito della modifica del tracciato. Quel piccolo e inoffensivo manufatto era l'unico segno rimasto del tracciato storico della ferrovia. Leggo che probabilmente il dirigente del Comune, nel momento in cui doveva validare il progetto, avrebbe dimenticato di calare la prescrizione della superintendenza, che avrebbe impedito la demolizione del manufatto. Allora, tutto a posto così, una dimenticanza e via. A nessuno del cantiere è venuto in mente di chiedere il perché della sua mancata demolizione al tempo della rimozione dell'armatura della linea ferrata, o il perché di quella ringhierina di rescinzione, che qualcosa avrebbe dovuto significare? Se qualcuno volesse risolvere giustificando quella demolizione con il degrado, vada a vedere in che condizioni si trova il verde ricavato dal primo tratto del sedime, dietro le palazzine di via Armando Diaz, sporcizia in quantità e bivacchi di nulla facenti a tutte le ore. Il degrado affligge da tempo, nella più totale indifferenza tutta la borgata, a rifiuti ingombranti e non sempre negli stessi punti, le aiole degli alberi di via Mosco e di Corso di Moleonte, dove gli alberi resistono ancora, adibite a depositi di spazzatura, orinatoi, ricettacoli di eschimenti animali, uno scempio. Non essendo stata adottata alcuna forma di condivisione con la città in ordine, interventi di tale portata in un quartiere storico, anche più in assenza del Consiglio Comunale, ed essendo del tutto ignorato il decoro, Italia Nostra ritiene non più differibile e richiede con urgenza l'istituzione di una consulta per l'urbanistica e il decoro, che veda partecipi i soggetti collettivi portatori di interessi diffusi a scelte di tale portata e al decoro dei quartieri. Le consulte, ne sono state istituite tante per le più diverse esigenze, sono punti fermi di una gestione democratica della res pubblica, perché consentono alla società civile organizzata, associazioni, sindacati, eccetera, di rappresentare ragioni altre rispetto a quelle della politica. Ragioni e punti di vista che possono contribuire alla migliore gestione delle problematiche della comunità cittadina, per una città tutta all'altezza della sua storia. Lo comunica per il Consiglio Direttivo la Presidente Liliana Gissara.